Doveva essere Monte Spaccato e Monte Pelone Meridionale, li abbiamo fatti ma non ci è bastato. Sorpresa, con sommo, piacere, un'emozione unica. Sono tornato per la seconda volta su Pizzo di Moscio, eccolo, grandissimo. Wow, che salitina ragazzi, si cammina, si trotta, wow. Ecco la bellissima croce di riferimento, Pizzo di Moscio, 2411 metri. I ragazzi stanno un po' giù, eccoci qua. Abbiamo fatto tre, numero perfetto. Abbiamo toccato il pelone e il Monte Spaccato. Ragazzi, emozione unica. Grazie veramente a tutti. Natale, ti è piaciuta allora l'uscita? Grande. Stiamo aspettando gli altri che volevano salire, volevano fare. Forza! Eccoli là. Io ho corso un po' per fare il video. Ma ci sta. Ciao! Ciao!